Il sabato italiano Sabato italiano, Cirilli ironizza sulla malattia di Donatella Rettore Rettore malata, la battuta di Gabriele Cirilli a il sabato italiano. E' toccato a Gabriele Cirilli oggi al sabato italiano di Eleonora Daniele raccontarsi allo specchio, abbiamo infatti visto il comico cimentarsi in una sorta di lungo monologo, terminato il quale, la conduttrice gli ha chiesto cos'è successo a Donatella Rettore, costretta ad abbandonare tale quale show per via di gravi problemi di salute. A tal proposito Gabriele Cirilli ha ironizzato sul cognome della cantante, affermando scherzosamente. La Rettore non ha retto e la gara. E il Rettore deve stare all'università. . Dopo tale battuta Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le risate, come il pubblico presente in studio d'altronde, e ha mandato in onda anche il video messaggio che ieri sera Donatella ha inviato a tale quale show, con il quale si è congedata ufficialmente dal programma proprio a causa dei suoi problemi di salute, ossia un'infezione che l'ha colpita i reni e alle vie respiratorie. . Gabriele Cirilli al Sabato Italiano, la battuta su Donatella Rettore. . Subito dopo il simpatico protagonista di tale quale show ha corretto la padrona di casa dei Il Sabato Italiano Eleonora Daniele, precisando che la cantante vuole essere chiamata solo Rettore e non Donatella Rettore. . Eleonora ha subito dopo mandato in onda una serie di filmati tratti proprio da tale quale show, con le divertenti imitazioni fatte negli anni da Gabriele, nell'edizione in corso incaricato di imitare i personaggi dei cartoni animati, dopo Eddie e Lap e Maya, ieri sera si è infatti cimentato nell'esilarante imitazione della sirenetta, che ha fatto piegare dalle risate Loretta Goggi. . Ha infine chiuso la sua ospitata il Sabato Italiano Gabriele Cirilli cimentandosi in diretta in alcune imitazioni, come quella di Albano, richiesta proprio da Eleonora Daniele. . Insomma, uno spazio molto divertente, forse per smorzare un po' la riattesa creatasi dopo il drammatico racconto di Francesca Barra, intervistata da Eleonora Daniele dopo le minacce subite. . . Chiuso il divertente spazio, la Daniele ha congedato il suo ospite dandogli appuntamento a più tardi per ballare il tucca tucca. .